In questa biennale sono esposte le opere di circa mille artisti che hanno tutti più o meno la mia età. Cercherò di scoprire quali sono le cose che mi legano a loro, se ci sono delle consonanze nel modo di sentire il mondo che abbiamo attorno e di raccontarlo soprattutto. Mi pare che siamo una generazione di artisti e anche di persone abbastanza legati all'osservazione, siamo tutti dei voyeur. Questa serie di opere è abbastanza interessante secondo me, a parte il colore che naturalmente è così forte e così violento che attira subito l'attenzione, poi sembrano quasi dettagli rubati a delle inquadrature di film pornografici, sembrano immagini di sessi, di lingue che si incontrano. Visti bene da vicino si capisce che non sono organi sessuali ma che è un'altra cosa, sono immagini così, sono segni astratti. Le trovo anzi abbastanza violente perché i colori sono quelli dell'eccitazione sessuale, gli organi sessuali quando si eccitano il sangue scorre più in fretta e più aspetta. Firmare per fare qualcosa. Ma non è questa, è una moratoria. No però già la parola contro non mi piace. No no, non è contro, è sospendere proprio. Appello per una moratoria, sai cos'è una moratoria? Sì certo che lo so. E allora perché non filmi? Perché sono contro i banchetti sfigati che raccogliono le firme. Noi siamo quasi un milione. Però guarda che noi, entro la fine del 99, la pena di morte sarà sospesa perché ci siamo noi qua. Vabbè, ma questa è una cosa proprio, sono anni che si batte la gente, la politica. C'è una serie di associazioni tra le quali la nostra che è buddista, che ha aderito a questa cosa. Buddista? Sì. Questo già, già è arrivato in più, già è una cosa. Mi chiamo Rahab Sadiq, sono d'Egypte, d'Alexandria. Dopo che ero in England, ho pensato che tutto è venuto dall'Egypte. Io ho pensato che tutto è venuto dall'Egypte, tutto ciò che è venuto dall'Egypte. Quindi questa struttura è europea, ma questa struttura in Egypte non abbiamo. Questa è europea, ma questa struttura è venuto dall'Egypte. Questa è venuto dall'Egypte. La struttura è venuto dall'Egypte, ma questa è venuto dall'Egypte. La struttura è venuto dall'Egypte. La struttura è venuto dall'Egypte. Questo padiglione, insomma, c'era una selezione precedente, poi c'è una seconda selezione, più ci sono altri che i curatori.